Buonasera, edizione serale che apriamo parlando di Covid, andando a giarre con il sindaco Danna che smentisce la valutazione secondo cui le vaccinazioni siano state trasferite all'ospedale di Acireale. Dice il primo cittadino, si riprenderà regolarmente all'ospedale Sant'Isidoro non appena saranno disponibili le nuove dosi nel nostro nosocomio. Ascoltiamo. Vaccinazioni sospese al Sant'Isidoro di Giarre, ma il tutto rientra in una situazione complessiva con le fialde anticovidi che sono ormai esaurite sul territorio siciliano. Il sindaco Danna smentisce che la vaccinazione sia stata spostata all'ospedale di Acireale, ma viceversa che sarà ripresa regolarmente nel nosocomio giarrese non appena saranno disponibili le nuove dosi. La Pfizer non ha inviato un quantitativo conguro nelle varie regioni e quindi credo che in qualche modo anche la regione Sicilia sia oggi con una scorta non più sufficiente a dare continuità secondo quelli che erano i programmi precedenti. In tal senso in questo momento Giarre ma altri centri di vaccinazione non li stanno effettuando. È chiaro che ho avuto conferma che chiaramente Giarre continuerà a essere uno dei centri di vaccinazione, peraltro al pari di tanti altri perché nel momento in cui le stesse arriveranno le dosi e devono essere diffuse su tutta la popolazione ovviamente aumenteranno significativamente i punti di somministrazione. altrimenti rischiamo di avere dei tempi biblici che compromettono l'efficacia e il superamento di questa drammatica, dico drammatica e lo sottolineo, situazione che ha impatti sul piano sanitario e non solo. Pertanto oggi questa è la situazione, non ci sono vaccini in questo momento disponibili per essere somministrati. Se rimangono delle dosi che rimangono perché appunto c'erano dei richiami, probabilmente le stesse vanno concentrate su pochi centri dove verranno somministrati, ma sicuramente Giarre è stato e anzi io colgo l'occasione per ringraziare i medici che hanno veramente fatto sì che tutta l'ASP e Giarre ha dato il suo contributo di Catania, quindi l'ASP di Catania fosse una delle realtà dove più velocemente, in maniera più professionale e immediata, si è dato seguito alla vaccinazione. Quindi nessuno spostamento all'ospedale di Acireale, ma tutto avverrà quando sarà possibile sempre all'ospedale di Giarre? Guardi il discorso di Giarre Acireale, noi dobbiamo cominciare veramente a superare questa logica di contrapposizione. Giarre ha una dignità di ospedale perché serve alla gente, perché serve al territorio, perché serve alle necessità che sono veramente impellenti. Oggi io mi preoccuperei di capire come superare l'emergenza anziché occuparmi di questo aspetto e sono sicuro che nella responsabilità di chi ha il potere decisorio avere un punto in più che è stato efficiente come ripeto è stato l'ospedale di Giarre a somministrare i vaccini io non mi pongo il problema, sarebbe da incoscienti eliminare una fonte, un'opportunità rivolta alla popolazione. Intanto stamattina sono state somministrate le prime dosi di richiamo del vaccino anti-covid della Pfizer-BioNTech agli operatori sanitari operanti nelle diverse sezioni covid dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Si tratta di medici ed infermieri che avevano ricevuto già la prima dose a Palermo il 28 dicembre scorso all'inizio delle tre giornate che l'assessorata alla salute aveva riservato alle aziende sanitarie. Vediamo quali sono i dati aggiornati ad oggi 18 gennaio per quel che riguarda il covid i nuovi casi di contagio registrati in Sicilia sono 1.278 e il totale dall'inizio dell'epidemia sale così a 122.007. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 39.776 attualmente positivi 46.885 persone. I decessi nella giornata di oggi sono 38 o mentre i guariti ammontano 72.095, 780 in più rispetto al dato registrato ieri. Degli attuali positivi 1.444 sono ricoverati con sintomi 205 persone in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. Per quanto concerne i dati provincia per provincia in Sicilia. Il primato questa volta lo detiene Palermo con 428 contagi, Catania 362, Messina 201, Trapani 35, Siracusa 126, Ragusa 18, Caltanissetta 61, Grigento 7 ed Enna 40. Intanto proseguono i tamponi in modalità drive-in in varie località anche dell'Interland etnia. Oggi in particolare siamo andati a Pedara e ad ACI Sant'Antonio. Vediamo qual è il report registrato alle 18, cioè alla fine della giornata, alla fine del resoconto per quel che riguarda il drive-in. Dai tamponi rapidi effettuate oggi nelle postazioni di ACI Sant'Antonio e Pedara emergono dati tutto sommato confortanti rispetto al trend complessivo dell'isola. 404 test eseguiti con 8 positivi nell'area attrezzata di Lavinaio, mentre nel parcheggio del comune Pedamontano su 361 prelievi sono risultati positivi al coronavirus 10 soggetti. I drive-in Covid riattivati in diversi comuni della Sicilia per tracciare l'andamento dei contagi che rimane comunque al di sopra della soglia minima di sicurezza e occorre ridurla priva di intraprendere un eventuale alleggerimento delle restrizioni che ci collocano in zona rossa con l'inasprimento della libertà personale, la chiusura di attività commerciali non indispensabili e limiti stabiliti a seconda delle necessità quotidiane per le altre categorie. Si susseguono gli appelli rivolti alla cittadinanza invitata a sottoporsi ai tamponi. Nicolò Vitale, medico responsabile del drive-in Covid di ACI Sant'Antonio. Fortunatamente l'affluenza è molto buona, infatti abbiamo circa due ore di fila, abbiamo effettuato circa 100 tamponi e il rapporto positivo è incoraggiante, però questo non esime la popolazione da venire a effettuare uno screening che risulta di vitale importanza in quanto solo in questo modo è possibile interrompere la catena del contagio. Venite, tamponatevi e in questo modo sarete sicuri di non contagiare altre persone. A Pedala invece l'Aspetnea ha disposto tre giorni di test da oggi a mercoledì aperti a tutta la cittadinanza nel parcheggio di via Pizzoferro allestito il percorso delle auto e le tende per il personale sanitario coadiuvato dalla Polizia Municipale nella gestione del traffico, dai volontari della misericordia locale che distribuiscono i moduli precompilati e indirizzano le vetture nell'area di sosta in attesa del risponso mediamente a 15 minuti. Se l'esito è negativo la certificazione viene consegnata da un volontario, in caso contrario il medico a notificare l'avvenuto contagio e scattano i protocolli di sicurezza, comunicazione all'Aspetnea e quarantena per i soggetti infettati. La dottoressa Simona Ingrassano è una delle responsabili del drive-in di Pedara. È molto importante eseguire questi screening perché dobbiamo avere un'idea di quella che è la popolazione in questo momento, di quanti positivi ci sono, monitorare affinché si riesca a contenere con l'isolamento domiciliare, con la quarantena. È molto importante, speriamo che l'affluenza aumenti in questi tre giorni, è fondamentale. Per ora l'affluenza è sempre buona, però speriamo che aumenti perché non ci serve appunto per monitorare bene la popolazione. E le lezioni in presenza per la scuola dell'infanzia in questo momento, mentre le elementari e le prime medie anch'esse sono tornate sui banchi. Nonostante il disagio, a seguito del coronavirus, gli istituti comprensivi adeguano i modelli didattici anche a distanza e garantiscono in sicurezza la presenza in aula. E per i soggetti più fragili c'è l'interazione in rete. Vediamo. La Sicilia classificata zona rossa non pregiudica almeno in parte le lezioni in presenza delle scuole dell'infanzia, le elementari e le prime medie. All'istituto comprensivo Vigo, Fuccio, La Spina, Dieci Reale, alunni in presenza e per le fasce più a rischio disposta la combinazione mista in aula e a distanza. Lo storico plesso ha circa 500 iscritti, molti provenienti dai comuni delle ACI, ed è stato organizzato in maniera tale da non compromettere la sicurezza degli studenti, tanto che la dirigente Maria Castiglione ha dovuto ricavare tre nuove classi riducendo la capienza dell'aula magna per non escludere nessuno dal diritto allo studio. I tre nuovi moduli consentono l'insegnamento in presenza delle elementari e di coloro che sono approdati alle prime classi delle medie. Per tutti gli altri rimane la didattica a distanza almeno sino a nuove disposizioni governative regionali stabilite sulla scorta dei dati sui contagi, piegare la curva epidemiologica e imperativo categorico, cui tutti siamo chiamati ad uno sforzo di responsabilità. Alla Fuccio, La Spina, le scelte adottate dalla dirigenza, a cominciare dalla rinuncia ai banchi con le rotelle, scegliendo i più funzionali banchi monoposto, hanno permesso di adeguare gli spazi rispettando il distanziamento fisico imposto dal Ministero. Il protocollo di eccesso dell'Istituto per Familiare d'Estrani è rigidissimo. Occorre sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, registrarsi ad un apposito registro e sanificarsi le mani. L'incidenza del diffondersi della pandemia, almeno nelle scuole, rimane sotto controllo grazie alle misure adottate e al buonsenso. Una didattica mista, integrata, chiamiamola come vogliamo, però la presenza dei bambini a scuola è importante, non soltanto dal punto di vista di socializzazione, ma anche dal punto di vista didattico. Come lei ha ben visto, facendo un giro, i bambini sono tutti contenti di essere a scuola, soprattutto i bambini così piccoli. Allora, la scuola dell'infanzia non ha mai smesso. Noi siamo stati aperti perché la scuola dell'infanzia ha fatto l'orario completo fino alle 4 del pomeriggio con la mensa. Ora sono entrati tutta la scuola primaria e la prima media. La seconda e la terza media sono a distanza, però i docenti sono in presenza perché avendo la prima media in presenza, naturalmente la didattica a distanza la faranno sempre dalla scuola. In questo plesso ci sono circa 500 alunni e avete dovuto rimodulare le classi. Per esempio l'Aula Magna è stata separata per consentire la didattica, soprattutto interna, in presenza, ma certo a distanza. Certo, abbiamo mantenuto, come ben vedete, tutte le precauzioni necessarie che ci venivano date dal Ministero, quindi abbiamo dovuto sacrificare l'Aula Magna, ricavare nell'Aula Magna tre aule per permettere ai ragazzi di stare distanziati con tutte le misure e le precauzioni, con le mascherine, i gelsanificanti, il ricampio dell'aria e tutto quello che naturalmente la normativa Cimbone. Siamo in zona rossa, speriamo di uscire presto e bene da questa emergenza per la ripresa di tutte le attività didattiche in presenza. Certo, in questo momento l'attività didattica, soprattutto come la intende questa scuola, con il territorio, con tutte le attività che si facevano, queste si sono interrotte. È un danno dal punto di vista formativo perché la didattica non è soltanto didattica in Aula in presenza, ma sono tutti i progetti che la scuola fa, integrandosi con il territorio. Quindi speriamo di poter uscire fuori da questa pandemia al più presto, sia per un problema sanitario, che è una cosa importantissima, ma anche per dare la possibilità a questi ragazzi di rifare didattica, di rifare scuola come erano abituati a farla. Discorso diverso invece a Maschle, dove il sindaco Luigi Messina ha chiuso le scuole sino alla prossima 29 gennaio per evitare il propagarsi ulteriore del virus. Una decisione obbligata, quella del primo cittadino di Maschle, Luigi Messina, che ha chiuso sino al 29 gennaio prossimo i plessi dell'Istituto Comprensivo Scolastico del Paese. Le attività scolastiche continueranno solo per i piccoli studenti della scuola dell'infanzia, il tutto in riferimento alla curva dei contagi che non accenna a diminuire sul territorio mascalese, anzi il numero dei contagi ha registrato dei lievi aumenti. Nei giorni scorsi effettuati i tamponi, ma non tutti gli alunni si sono sottoposti al test così come richiesto. Il problema nel nostro territorio sta mantenendo sempre dei numeri altissimi nei confronti di altri territori dove in ugual misura come dimensionamento della popolazione siamo parimenti al doppio. Per fare un'analogia con Riposto, che sono più di 14 mila abitanti come noi, ci sono circa 35 contagiati e mentre noi già abbiamo una costanza di oltre 70. Inoltre abbiamo messo in condizione la popolazione scolastica di fare i tamponi la scorsa settimana e su 900 alunni circa sono andati a farsi i tamponi circa 400. Di questi ne sono risultati tre positivi. Poi abbiamo dato la possibilità anche sabato e domenica di andare a Giarra attraverso un accordo con l'USCA e pochi altri sono andati con tanta disponibilità a fare i tamponi. Anche qualche classe intera. Ma questo non è sufficiente a garantire tutti gli altri 450 alunni probabilmente che magari non sono andati a farsi il tampone. Tutto ciò ha destato grande preoccupazione fino a ieri che ero in attesa dei risultati di Giarra che sono stati sempre quelli di non aver avuto una grossa affluenza da parte degli studenti mascalesi. Pertanto ieri sera ho dovuto decidere di chiudere nuovamente le scuole. Ho lasciato aperto soltanto la materna perché non è obbligatoria e perché la responsabilità deve essere anche dei genitori oltre che del sindaco di decidere se mandare i propri figli a scuola oppure no. Cioè in questo caso all'asilo. Stiamo chiudendo fino al 29. È ovvio che poi c'è il sabato e la domenica e pertanto il rientro è giorno 1 febbraio. Speriamo che il tutto passi più velocemente possibile. Mi dispiace che i ragazzi devono continuare in dadda a casa ma dobbiamo porci se il problema di poter avere una sofferenza di gestione della dadda a casa con la sofferenza di salute di qualche cittadino può essere più o meno importante. Ci sono state dei casi dove gli alunni sono rientrati a casa e hanno portato l'essere positivi anche in famiglia. Probabilmente ci sono state anche dei morti che sono legati anche a questi eventi. Sicilia tutta in zona rossa dunque sino alla fine di questo mese. Vediamo com'è la situazione a Catania tra strade semideserte e negozi evidentemente poco frequentati. Il lunedì sarebbe per Antonomasia il giorno del fermento delle città che si rimettono in moto dopo il fine settimana ma la normalità comincia ad essere un ricordo lontano per via dell'emergenza Covid. Oggi atmosfera surreale in Sicilia che a differenza delle altre regioni d'Italia si sveglia per il secondo giorno blindata. Poche le saracinesche alzate essenzialmente si tratta di farmacie e barri aperti per l'asporto ecco come si presenta la via Etnea a Catania inizio settimana di zona rossa. Non è il lockdown della primavera 2020. Deroghe necessità consentono di spostarsi in città con le dovute precauzioni. Ecco perché si vedono pedoni e ciclisti in strada nonostante la pioggia. Dobbiamo rispettare le normative che prevedono e ci dobbiamo adeguare. È giusto che dai cittadini siamo rispettosi della legge. Non si lavora allo stesso modo assolutamente. Cosa si aspetta dopo questi 15 giorni? Speriamo che la situazione migliori. Un giorno è arancione, un giorno è rosso. Siamo un pochettino e non sappiamo cosa fare. Ma purtroppo è così e dobbiamo esattamente fare le cose giuste. Trovo un errore perché sono soprattutto i ragazzi che portano il virus. Perché da quello che io so, magari sono quelli che comunque si riuniscono, vanno a casa dell'amico, dell'amica e i genitori lo permettono e quindi sono quelli che sono un po' più pericolosi. Poi capisco che anche loro stanno avendo una brutta, come dire, abbiamo rubato anche a loro una parte della vita che è importante. Da stamane a Catania, come nel resto della regione, eccezione fatta per qualche comune, con le elementari e prime classi delle medie di nuovo in presenza, dopo gli screening effettuati sulla popolazione scolastica, più che dimezzato il traffico delle auto si può circolare solo per lavoro e necessità. Ecco perché da oggi fino al prossimo 30 gennaio si potrà parcheggiare sulle strisce blu gratuitamente. Iniziativa benefica a Catania, ieri 400 pizze e margherite appena sfornate sono state donate dall'Elpe Center della Caritas di Catania agli indigenti in occasione della giornata mondiale della pizza. Sentiamo Mario Grasso. Sant'Antonio Abbate è il protettore dei fornai e dei pizzaioli. Anche per questo, ieri, la Caritas diocesana di Catania in occasione della giornata mondiale della pizza, ha voluto omaggiare nel nome del santo la pizza, donandola agli indigenti che ogni giorno si recono all'Elpe Center della stazione centrale. Una iniziativa che è stata immediatamente sposata dal panificio La Spiga di Cannizzaro, oltre che dal Banco Alimentare della Sicilia Orientale, che hanno significativamente contribuito alla donazione di 400 pizze calde agli indigenti. Si tratta dell'ennesima iniziativa che vede per protagonista l'Elpe Center della stazione centrale di Catania, da sempre affollato, ma in periodo di Covid sempre più frequentato anche da famiglie catanesi, improvvisamente rimaste senza lavoro a causa della crisi economica scatenata dal coronavirus. Ogni giorno qui in Caitas diocesana viviamo sempre una testimonianza di nostro Signore. A prescindere dalla diversità del menù o degli alimenti, quello che ci unisce è proprio la famiglia, fatta da operatori, volontari e in particolar modo dai nostri benefattori. Ecco perché una giornata come quella di oggi, in cui sono state distribuite 400 pizze insieme a delle bevande, delle aranciate, testimonia ancora di più come l'unione tra benefattori e Chiesa possa essere sempre testimonianza di amore e di carità. Quindi la giornata di oggi è stata ancora di più sentita perché la diversità del menù e l'affetto di tutti, banco alimentare, benefattori e Caritas, porta sempre quel segno vivo e forte di essere tutti una famiglia. Ogni assistito ha ricevuto una pizza margherita appena sfornata, confezionata singolarmente, assieme ad una bevanda. Oggi lo stiamo facendo soprattutto perché è la giornata mondiale della pizza e questi poveri così hanno una pizza assieme a tutti gli altri che oggi festeggiano sia a casa che perché non si può uscire per la pandemia e tutto. Anche hanno loro un gesto di carità, della Caritas, compreso anche noi del panificio, così anche oggi hanno loro pizza come tutti gli altri. Le pizze surgelate sono state donate dal Banco Alimentare della Sicilia Onlus, come ho già detto, e sono state cotte grazie al forno del panificio La Spiga di Cannizzaro. La pizza è certamente uno dei piatti italiani più famosi al mondo e nel corso del 2017 ha visto il riconoscimento dell'UNESCO all'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio immateriale dell'umanità. Ancora cronaca, furto con scasso i danni di un'agenzia viaggi di Catania, il secondo episodio del genere negli ultimi mesi, ulteriori spese da affrontare per l'attività già colpita dalla crisi dovuta alla Covid. I titolari chiedono maggiore sicurezza e controlli nella zona. Sentiamo Sara Rinaudo. Prima il lockdown quasi un anno fa, poi la lenta ripresa con un volume di affari pressoché inesistente, la sopravvivenza, per un settore tra i più colpiti dalla pandemia. Ora, come se non bastasse, i furti. Domenico, cotitolare di questa agenzia viaggi di Via De Gasperi a Catania, si trova a dover far fronte ad un nuovo furto con scasso. E il secondo in tre mesi, in 16 anni di attività non era mai accaduto, racconta mentre sta già provvedendo a riparare il danno. Praticamente ci scassinano l'agenzia creando intanto un grande danno a livello proprio economico perché rompendo la vetrina, la stracinesca, la porta, eccetera, ogni volta fanno 600-700 euro di danno. Capisci bene che in questo periodo in cui non lavoriamo noi da marzo scorso per noi sono comunque pesanti questi soldi da uscire. Però purtroppo evidentemente con il fatto che dalle 10 di sera alle 5 di mattina c'è il coprifuoco, quindi c'è poca gente in giro, evidentemente il controllo non è abbastanza, avevano già aperto anche un veterinario, avevano aperto anche un altro negozio. Questa è la prima volta che ci hanno fatto il furto, quando si sono presi il portatile, si sono presi i cellulari, si sono presi la Nintendo Switch, insomma un bel danno e nel cassetto c'erano dei soldi allora, perché diciamo che è stato poco dopo l'estate. E questa volta invece ci hanno fatto praticamente tutto questo danno per niente. Sembra piovere sul bagnato, l'attività che a causa delle restrizioni non ha più avuto ossigeno da quando è cominciata la storia del virus paga un'ulteriore amara conseguenza della generale condizione di crisi e povertà. Ecco perché servono più controlli, dicono gli esercenti, per garantire almeno vivibilità e sicurezza. Siamo, rispettiamo le regole, ma vorremmo che anziché andare a sanzionare le persone che vanno in giro senza mascherina o cercarle con i droni, almeno facessero un controllo del territorio nelle fasce in cui c'è il coprifuoco. E la Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato 23.000 giocattoli destinati a bimbi in età prescolare, privi di requisiti minimi di sicurezza, contestate sanzioni amministrative nei confronti di 7 persone. Vediamo. Solitamente ci giocano i bambini in età prescolare, sino ai 3-4 anni. Si tratta di giocattoli che, per forza di cose, devono rispondere a requisiti particolarmente rigidi. In assenza delle prescrizioni e delle certificazioni di fabbrica, questi giocattoli non possono essere inseriti nel mercato italiano. Ebbene, 23.000 pezzi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Messina all'interno di 13 punti vendita diversi, per uno valore complessivo di circa 55.000 euro. Nel dettaglio è stato riscontrato come tutte le confezioni dei giocattoli risultassero mancanti delle prescritte avvertenze e delle informazioni di sicurezza, elementi necessari a consentire agli utenti finale una valutazione circa gli eventuali effetti dannosi. Le confezioni, in alcune parti, erano peraltro prive di informazioni sulle caratteristiche, dimensioni e componentistiche delle parti stesse che, tra l'altro, se ingerite, avrebbero potuto provocare soffogamento, nonché la mancanza sia del pittogramma con la simbologia tipica per l'indicazione della fascia d'età a cui destinare il giocattolo, sia delle indicazioni dell'importatore. La merce sequestrata era collocata nei punti vendita di 13 esercizi differenti. 27 persone sono state denunciate per violazioni amministrative. Peraltro, nell'ambito dell'attività di Polizia Giudiziaria e della Guardia di Finanza, sono stati individuati sei lavoratori in nero, privi di qualunque regolare contratto di lavoro, di cui uno persino percettore illegittimamente del reddito di cittadinanza, per cui saranno effettuate le opportune comunicazioni all'Inps. La merce sequestrata è stata tolta dal mercato. Si tratta di pupazzi in peluche e altri oggetti, quali yo-yo, pupazzetti in gomma, mini costruzioni in plastica. In molti pezzi è stata rilevata persino l'assenza della marcatura CE, che dimostra la rispondenza del prodotto ludico a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e il rispetto di tutte le procedure di conformità, secondo quanto indicato dalle vigenti normative europee. Incendio di una bombola di GPL a Bronte all'interno di un appartamento al terzo piano di via Carnea della Palazzina è stata evacuata a scopo precauzionale dai carabinieri. Una persona anziana è rimasta ferita ed è stata condotta in ospedale dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Adrano, quelli del comando provinciale di Catania e anche i vigili del fuoco volontari di Maletto. E adesso torniamo a Catania, a crollo di un edificio abbandonato in via Volturno, allontanate quattro famiglie in via precauzionale. Servono interventi per la sicurezza nella zona. Da tempo il presidente della municipalità denuncia lo stato di grave degrado e pericolo. Sentiamo. L'abbandono e l'incuria di decenni avrebbero potuto trasformarsi in tragedia se il caso non fosse stato favorevole. Vi erano autoparcheggiate, come sempre qui, dove adesso vediamo un mucchio di pesanti sassi. Gente in strada, fino a quando è scattato l'allarme ieri mattina con la chiamata alle forze dell'ordine. Il crollo anticipato dal rigonfiamento del vecchio rudere e dalle crepe, notate dai presenti, si è verificato poco più tardi dell'allarme, nel pomeriggio. L'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale aveva già fatto in tempo a mettere al sicuro residenti e passanti. Adesso quattro nuclei familiari hanno dovuto per precauzione abbandonare le loro case, quelle di fronte. alloggiano dai parenti e non sanno quando potranno ritornare alla normalità. Una situazione quella di via Volturno, nel quartiere Cibali, più volte denunciata dal presidente della quarta municipalità, Buceti. Nel corso degli anni il sottoscritto ha sempre inoltrato alle amministrazioni che si sono succedute un obbligo di mettere in sicurezza tutti gli edifici, ripeto, da tempo immemorabile abbandonati. Nella scorsa notte è avvenuto un crollo che ha comportato una totale caduta di calcinacce, non solo all'interno di una via, che è appunto via Volturno, dove giornalmente sostano tutti coloro che vi abitano, che quindi ha comportato anche un allontanamento immediato di diversi nuclei familiari per i quali l'amministrazione ha l'obbligo di adottare con immediatezza tutti gli immediati interventi per garantire loro un ritorno presso le loro abitazioni in totale sicurezza dei luoghi. Lo stato di deterioramento di questi immobili di proprietà ignota e quindi passati e il patrimonio comunale era sotto gli occhi di tutti. Il crollo ha messo in moto finalmente la macchina istituzionale affinché si possa, dopo la messa in sicurezza dell'area, procedere con la demolizione della parte degli edifici ancora in piedi. Protezione civile, lavori pubblici, gli assessorati coinvolti nell'operazione. Verificato che questo sta già avvenendo, per il tramito ovviamente di una disponibilità immediata da parte del sindaco pugliese, però è necessario che bisogna bruciare il tempo. Buone notizie per il villaggio Dusmet di Catania. Dal governo musulmane ci arriva infatti un investimento che consentirà di voltare pagina riqualificando il patrimonio religioso appunto del quartiere. Assegnato più di 2 milioni di euro alla progetto di costruzione del nuovo complesso parrocchiale del Rione per dare finalmente una sede adeguata alla parrocchia San Giovanni Apostolo ed Evangelista. A maggio era stato inserito nel piano di riqualificazione urbana da 25 milioni voluto dal presidente Mosumeci e oggi, come ha affermato anche l'assessore Marco Falcone, è stato decretato che a breve sarà mandata in gara l'opera. E adesso una nostra produzione. Alfio Cristaudo, dallo scorso ottobre sindaco di Pedara, l'ospite dell'intervista, il faccia a faccia condotto da Filippo Romeo, i primi 100 giorni da primo cittadino, l'emergenza Covid e la situazione finanziaria dell'ente, sono gli argomenti dei quali si parlerà, ma ci sarà spazio anche per il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti di turismo, di progetti per il futuro. L'appuntamento con l'intervista è per questa sera su ReTV, canale 89, alle 20.20, anche su Facebook, e poi in replica alle 23.10. Non c'è altro, finisce qui questa edizione del telegiornale, la prossima in diretta domani a partire dalle 14.00. Vi invito a seguire questa seconda edizione sul nostro sito internet, reTV.it, ma anche sui nostri canali social e vi lascio come di consueto alle previsioni meteo per la giornata di domani. Grazie per averci seguito, ringrazio in regia Fulvio Ferrauto e Carmela Fagone, auguro a tutti voi la buona serata. Le previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 19 gennaio, in Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l'isola, qualche addensamento in più, soprattutto nelle ore pomeridiane, nell'area etnea. I venti saranno deboli da nord-nord-est, i mari poco mossi, quasi calmi. Le temperature rigide al mattino su tutto il territorio regionale, poi gradevolmente piacevoli, soprattutto lungo le coste. Le minime più basse saranno registrate a Enna Caltanissetta Ragusa, meno due gradi. Grazie! Grazie a tutti.